Ovunque tu vada, troverai il centro dell'universo, perché esso è già in te. Ognuno di noi è unico ed irripetibile. Non possiamo vivere in un altro corpo e la nostra anima risiede solo nel nostro corpo. Per questo, in un certo senso, ognuno di noi è il centro di tutto ciò che percepiamo interiormente ed esteriormente. È nella nostra mente che avvengono i dinamismi biochimici che consentono di compiere le scelte della nostra anima, centro trascendente ed immortale che accompagna la nostra esistenza. Del resto siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio, ed il Dio trinitario alberga in noi se lo lasciamo operare. Siccome Dio è il centro assoluto da cui provengono tutte le cose esistenti, anche noi partecipiamo di questa centralità cosciente per la nostra progressiva divinizazione.